Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie, cuccioli! La dottoressa Turbot ci ha chiamati perché ha un problema enorme, quindi preparatevi per un dino salvataggio! Con un nuovo dino equipaggiamento! Guardate che bello! Fenomenale! Voi due userete i vostri veicoli per rallentare il vracchiosaure e scoprire qual è il suo problema! Non posso dire di no! D'accordo! Al lavoro, Po-Patrol! Ehi! Ehi là! Io mi chiamo Rex! Come posso aiutarti? Sembri preoccupata! Oh no! Dice che qualcuno le ha portato via l'uovo e che non riesce più a trovarlo! Chi può fare una cosa simile? Tre uova! Avrò il dino ranch più bello di tutta la regione di Foggy Bottom! Ehi! Non si esce finché non arriviamo a Foggy Bottom! Almeno mi sei rimasto tu! Posi quell'uovo, sindaco Handigan! È lei il ladro di uova di dinosauro! No, non è vero! Allora che cos'è che tiene in mano? Oh! Un cucciolo molto spinoso! Oh, date un'occhiata a quei cuccioli di dinosauro! Che carini! È ora di riportare questi cuccioli alle loro mamme! Io... Io credo che questo sia tuo, mammina! Ecco te! Raider, Paw Patrol, grazie! Per ogni problema di dimensione dinosaurica, noi siamo a disposizione! È ora per Paw Patrol Trivia! Come well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Ok, let's find out! Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it is said by Rocky! Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Ottimo, perché stavolta ci attende un dino salvataggio! L'opterodattilo Maverick si è schiantato contro una parete rocciosa e ha un'ala bloccata sotto i massi! Oh, pavero piccolo! Per questa missione mi servirà... Rex! Non posso dire di no! E Chase! Questo caso fa per Chase! Perfetto! Al lavoro, Paw Patrol! Tempismo perfetto! D'accordo, Rex! Sai cosa fare! Dino artiglio! Ottimo lavoro, Rex! Chase, tocca a te! Cavo! Il cavo è in posizione, Chase! Arriva immediatamente un'imbracatura! Vai tu per primo, io ti seguo subito! Ben fatto, Maverick! Sì, yoo-hoo! Sembra che gli faccia male l'ala! Lo aiuterà mia madre e lei placa le pene di tutti, dai pesci ai pennuti! Oh! Gli serve solo un sostegno per l'ala finché non guarisce! Credo di avere un tutore qui da qualche parte! Trovato! Mi puoi dare una zampa, Rocky? Con piacere, dottoressa Turbo! Funziona! Vai così! Sì, bravo volare! Ah, sembra che Maverick abbia riacquistato la sua sicurezza! Grazie per il salvataggio spettacolare, Paw Patrol! Ogni volta che un opterodattilo è nei guai, noi siamo a disposizione! Fun fact time! Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has eight wheels! That's a lot of wheels! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto in fretta, cuccioli! Un dinosauro è rimasto incastrato nella palude e dobbiamo aiutarlo a venire fuori! Non ho mai visto un dinosauro come quello prima d'ora! Chissà che razza è! È troppo lontano per dirlo! Lo sapremo quando lo salveremo! Per questa missione mi servirà... Zuma! Useremo il tuo veicolo anfibio per attraversare la palude e aiutare il dinosauro a tornare sulla terra ferma! Tuffiamoci dentro! E Rex, dato che sai parlare il dinosaurese, ci servirà il tuo aiuto per tenerlo calmo! Non posso dire di no! D'accordo! Al lavoro, Paw Patrol! Oh, appena in tempo, Ryder! Il dinosauro sta sprofondando! Rex, riesci a capire cosa dice? Mi dispiace, Ryder! Non lo so! Ma tu non parli il dinosaurese? Certo! Ma questa creatura parla... Gattese! Gattese! I gattini del sindaco Hamdinger dentro un finto dinosauro! Dobbiamo salvare quei piccoletti! Ti aiuto io, Zuma! Saltate su, micetti! Se non volete saltare, vi prendo io! Dino Artiglio! Va pure, Zuma! Reggetevi forte, gattini! Cavalchiamo qualche onda! Ben lavoro, cuccioli! I gattini di Hamdinger sono salvi! Skye, Rocky, and Zuma are lost! Can you help us find them? Here we go with another Pup-tastic rescue! Pupatroll, siamo pronti all'azione, signore! I turbot sono nei guai, cuccioli! Sono bloccati su un triccerato poi in fuga! È una cavalcata pericolosa! Per questa missione mi servirà... Skye! Uh! Prendiamo subito il volo! E Rex? Non posso dire di no! Bene! Al lavoro, Pupatroll! Vai via, vessatore volante! Chase, ci serve un diversivo! Uh! Lancia palle! Skye, è la tua occasione! Qualcuno l'afferri! Beh, prima tu! Grazie! Uno sistemato, uno da sistemare! Sì, tala! Wow, dinosaurio salvaggio! Wow! 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 Presto! Sono nella melma fino al petto! Robo Cucciolo, fa scendere le pinze del Dino Patroller nella buca! Rex, tu va a calmare il triceratopo! Senz'altro! Calmo, calmo! Ti tireremo fuori! Allaccia le cinture, campione! Tiralo su! Ah! Ottimo lavoro! Adesso pensiamo a François! Uh! Dino Artiglio! Ah! Merci, Rex! Robo Cucciolo, puoi tirarli su! Grazie per averci protetti dal pericolo preistorico, Pupatroll! Non c'è di che! Ogni volta che c'è un triceratopo in fuga, noi siamo a disposizione! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-troll! Fun fact time! The mighty twins, Tuck and Ella have some pretty mighty powers! One of them can shrink super small, and the other can grow super big! Po-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Bene, al lavoro, Poupa Troll! Siamo quasi arrivati dallo stegosauro intrappolato, non manca molto ormai! Da questa parte! Meno male che siete qui, Poupa Troll! Lo stegosauro è super spaventato! Il stegosauro significa resisti, amico, ti tireremo fuori! Bene, Rocky, Rex, spostate quei tronchi! Subito! Uno, due, tre, tirate! Costruttiva collaborazione, cuccioli! Bene, Sky, è ora di sollevare lo stegosauro! Imbragatura! Ci siamo quasi! Devi solo entrare nella fascia, così! E... ci siamo! Ottimo lavoro, Rex! Sky, tiralo su! Ti sale! Ora devo solo trovare un posto dove adagiarlo! Guarda chi ha trovato la sua mamma! Can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another Rescue in 3, 2, 1... Poupa Troll, siamo pronti all'azione, signore! Ottimo, perché stavolta ci attende un dino salvataggio! L'opterodattilo Maverick si è schiantato contro una parete rocciosa e ha un ala bloccata sotto i massi! Oh, pavero piccolo! Per questa missione mi servirà... Rex! Non posso dire di no! E Chase! Questo caso fa per Chase! Perfetto! Al lavoro, Poupa Troll! Tempismo perfetto! D'accordo, Rex! Sai cosa fare! Dino artiglio! Ottimo lavoro, Rex! Chase, tocca a te! Cavo! Il cavo è in posizione, Chase! Arriva immediatamente un'imbracatura! Vai tu per primo, io ti seguo subito! Ben fatto, Maverick! Sì! Yuhuu! Sembra che gli faccia male l'ala! Lo aiuterà mia madre! E lei placa le pene di tutti, dai pesci ai pennuti! Gli serve solo un sostegno per l'ala finché non guarisce! Credo di avere un tutore qui da qualche parte! Trovato! Mi puoi dare una zampa, Rocky? Con piacere, dottoressa Turbo! Funziona! Con piacere, dottoressa Turbo! Non è così, non è proprio volare! Ah, sembra che Maverick abbia riacquistato la sua sicurezza! Grazie per il salvataggio spettacolare, Puppa Troll! Ogni volta che un opterodattilo è nei guai, noi siamo a disposizione! Can you match the pups with their badge? Here we go with another Pup-tastic rescue! Ci di essere qui, cuccioli! Il sindaco Goodway e i gemelli non sono tornati da un'escursione! Sky! Dovrai usare il tuo elicottero per cercare i Goodway! Everest! Usa il gatto delle nevi per perlustrare la montagna, visto che la conosci bene! Ghiaccio o neve, io sono pronta! Oh, me l'ero scordato, cicaletta! Dovremmo chiamare subito aiuto! Fischiare tre volte significa aiuto! Sentito! Questa è una richiesta di aiuto! Magari sono i Goodway! Sky! Vedi qualcosa dall'alto? Li ho trovati! Ryder, sono proprio sotto di me! Ecco la Pupatrol, eccoci qui! Siamo salvi, Julius e Giulia! Siamo salvi, cicaletta! Ti salviamo noi, mio sindaco! Oh no! Ryder, i Goodway stanno scivolando sul rusciallo ghiacciato! E vanno verso una cascata! Stiamo arrivando! Non possiamo permettere che arrivino alla cascata! Everest, aggancia il rampino a quest'albero! Poi con lo snowboard partalo dall'altra parte! Subito, Ryder! Snowboard! Rampino! Tenetevi per mano, gente! Sì, beh, è stato... Fantastico! Beh, almeno voi vi siete divertiti! E ora come faccio ad alzarmi con queste... Oh! 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 It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it is said by Rocky! Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Abbiamo una grave emergenza, amici! È finito lo sciroppo! Quindi dobbiamo andare a prenderne altro all'albero dello sciroppo! Al lavoro, Mini Patrol! L'albero dello sciroppo! L'abbiamo trovato! Ora basta girare questo affare e... Yuhu! Lo sciroppo d'acero! È lentissimo, però... Giriamolo ancora un po'. Ops! Alex! Ciao, nonno! Ho preso lo sciroppo d'acero! Tanto sciroppo! Oh, il rubinetto non si chiude più! Lo sciroppo è davvero appiccicoso! Ci penso io! Ce l'ho fatta! Ho fermato lo sciroppo! Beh, quasi tutto! Tranquillo! La Mini Patrol ci darà una mano! Potrebbe servirci un altro po' di aiuto! Riesci a prendere il mio cellulare? Sì! È arrivata la Puppa Troll! Cannone d'acqua! È fredda! Almeno non siamo più incollati! Grazie, Marshall! Andiamo, nonno! Aspetta, Alex! Ops! Scusate! Non fa niente! Ora ripariamo quel rubinetto, giusto, Rocky? Ma certo, Ryder! Pinza! Bene, Alex! Togli il dito dall'albero al tre! Uno, due, tre! Tutto a posto! Questi pancake sono deliziosi! Non potrei mangiarne un boccone di più! Se non fosse stato per la Puppa Troll, credo che Alex e io saremmo ancora bloccati nel bosco! Sì, grazie, Ryder! In ogni occasione appiccicosa, noi siamo a disposizione! Hold those paws! We've got another rescue coming right up! Oh, patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto in fretta! C'è un doppio problema sotto la città! Danny X ha perso il controllo del razzo e Rotelli non riesce a spegnere i pattini! Oh, no! Rotelli, e chi è? La signorina Marjorie era il suo soprannome quando era campionessa di pattinaggio! Per questa missione mi servirà Chase la spia! Ci pensa Chase la super spia! E avrò bisogno anche di Marshall! Non aspettavo altro! Bene! Al lavoro! Poe patrol! Meno male che siete qui! Non vediamo Danny e la signorina Marjorie da quando sono scesi nelle gallerie! Chase, devi trovare quei pattinatori in fuga! Immediatamente, Ryder! Droni! Andiamo troppo veloci! Non riesco a fermarmi! Tieni duro! E dammi il mio maglione! Cardigan attivato! Stanno arrivando! Marshall, Chase, dovete oltrepassare la rampa e fermarli! Stupenda! Che forza! Ops! Oh, rete! Oh, quindi era lì il bottone per spegnerli! Grazie! Grazie, Po-Patrol! È stata un'esperienza che non voglio mai più provare in vita mia! Non c'è di che, Danny! Ogni volta che devi fermare un razzo, noi siamo a disposizione! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger, Sweetie the Cat, Harold Humdinger, or Lady Bird? Do you know the answer? It's Lady Bird! Lady Bird stole all the shiny things in Adventure Bay! Lady Bird! You are so clever and so gorgeous! I adore me! Almost as much as I adore shiny things! Sea Patrol, siamo pronti all'azione, Capitano Raide! Ottimo! Perché la Sea Patrol ha una missione particolare oggi! Dobbiamo portare il Sea Patroller alla fattoria del Signor Hall! In qualche modo la fattoria del Signor Hall si è allagata! Zuma! Userai il tuo veicolo subacqueo per scoprire la causa dell'inondazione! Sempre pronto! Raide! Per tutti gli animali della fattoria! Robocucciolo, attiva la modalità acquatica! Zuma, scopri da dove viene tutta quest'acqua! Signor Sea, Capitano Raide! Wow! Questa sì che è una strana fattoria! Ehi, Raide! Ho trovato un tubo per l'acqua! È ancora aperto! Bene, Zuma! Segui quel tubo fino al rubinetto e chiudilo! Se solo avessi spostato quel masso dal tombino di scarico! Ecco perché l'acqua è ancora qui! Lo scarico è bloccato? Dobbiamo liberarlo! Rubble! Prendi la tua escavatrice e sposta il masso dal tombino! È ora di andare a togliere quel tappo! Certo che è un masso bello grosso! Ma io lo sposterò! Fatto, Raider! Farai meglio a spostarti in fretta, Rubble! L'acqua che scende potrebbe risucchiarti! Ricevuto! Indietro! Davvero grazie infinite, sì, patrone! La fattoria è salva! Ogni volta che una fattoria è in immersione, noi siamo a disposizione! Ehi, signor Hall! Ho dimenticato di chiudere... Il tubo! Ops! Mi scusi! Sai, tutti facciamo degli errori! Ehi, Everest! Che cosa è stato? Sta tranquillo, Alex! È solo un gufo che bubola! Questo no! Cosa fate voi due svegli? C'è uno strano rumore! Credo che venga dallo stagno! Potrebbe essere... Il fantasma dello stagno delle rane! Meglio andare a controllare! Deve essere il fantasma della storia del nonno! Alex, lo sai, i fantasmi non esistono! È il fantasma dello stagno delle rane! Sarà meglio chiamare la Poppa Troll! È arrivata la Poppa Troll! Loro troveranno il fantasma! Niente paura, ci pensiamo noi! Everest, setaccia il bosco! Io e Chase andiamo allo stagno! Ricevuto, Raider! Avete trovato il fantasma? Sì! Wow! Faro! I versi non sono di un fantasma! Sono solo rane molto grandi! Rane toro! Ma loro non vivono in questo stagno! Come sono arrivate fin qui? Sindaco Rampinger! Cosa sta facendo con quelle rane toro, sindaco? Beh, ecco... Sono venuto a fare un'altra passeggiata e... E va bene! Il loro gracidare mi tiene sveglio tutta la notte! Così le ho spostate in questo luogo! Ecco perché non ho riconosciuto il loro verso! Queste rane vengono da Foggy Bottom! Ed è lì che le riporteremo! Le porto io a Foggy Bottom! Possiamo andare insieme, sindaco! Oh, prevedo che sarà un viaggio molto lungo e rumoroso! Fun fact time! Marshall's dog breed is a Dalmatian e Chase's dog breed is a German Shepard! Benvenuti, piloti di Adventure Bay e nuovi arrivati! Chi è quello? Non l'ho mai visto prima d'ora! Sono Home Kid, il ragazzino più veloce della città! Questa è una gara senza motori, senza razzi e senza propulsori! Ora ai vostri posti! Pronti? Via! Forza! Motore a razzo! Vanno super veloci! Vanno troppo veloci! Ops! Dobbiamo aiutare Alex e quel ragazzo! Nessuna gara senza motore è troppo veloce per un cucciolo coraggioso! Tranquillo, Alex! Ora Zuma ti riporta in pista in un battibaleno! Wow! Yoho! Grazie, Poppatrol! Ciao! Ottimo lavoro, Zuma! Vediamo come se la cava Chase con Home Kid! Sono venuto a salvarti! Cosa? Sto vincendo! Oh, caspita! Dove sto andando? Ma è il sindaco Handinger sopra un razzo! Oh, che qualcuno mi aiuti! Vi prego! La prendo io! Lei rimanga calmo! Facile per te dirlo! Non sei tu quella sopra un razzo fuori controllo! Oh, oh, oh! Sì! Sì! Per fortuna che sono rimasto calmo! Sei il campione della gara senza motore di Adventure Bay! Grazie, sindaco Goodway! Non ce l'avrei mai fatta senza la Poppatrol! Capitan Turbot, come procede la visita di Nonna Tilly? Oh, bene, Ryder! Un diabolico delfino lo sta portando a largo! Wow! Sta andando parecchio a largo! Non si preoccupi! Nessun delfino è troppo veloce per un cucciolo coraggioso! Yuhu! Delfino! Tu non vuoi affatto riportarmi sulla Flander, dico bene? Stia tranquilla, Nonna Tilly! Siamo venuti a salvarla! Oh, beh, siete veramente molto gentili! Chase! Zuma! Andate! Dove sarà finito quel delfino? Ciao, cuccioli! Eccolo, amico! Bene, signor delfino! È ora di tornare! Nonna Tilly sta per scivolare! Chase, è tempo di usare l'esca! Signor sì! Uh! Sparapalle! Merenda in arrivo! Bell' lancio, Chase! Adesso, Zuma, seguili in caso Nonna Tilly dovesse cadere! Sobito! Yuhu! Prima sopra un delfino e ora sul sottomarino! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! What is the name of Mayor Goodway's chicken? George? Wendy? Chickapoo? Or Chickaletta? Hmm... It's Chickaletta! Mayor Goodway's chicken is Chickaletta! Hiya, Chickaletta! Follow me! Pop, 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 pop! Pronto, signor Porter? Che cosa succede? Venite subito! Il mio robot cameriere è andato in cortocircuito, pulisce tutto quello che vede! Polizia! Polizia! Temo che possa causare un incidente! Tranquillo, signor Porter! Nessun cameriere robot è troppo rotto per un cucciolo coraggioso! Polizia! Polizia! Che pasticcio! Chase! Usa i coni e il megafono per aiutare gli automobilisti nel traffico. Coni! Allora, gente, da questa parte, prego! Rocky, ci serviranno dei segnali per indicare la direzione. Vince! Pronto, sindaco Goodway? Oh, ti prego, aiutami! Polizia, polizia! È il robot del signor Porter! Vuole rubare il mio piatto speciale! Ho paura che finirà per rompersi! Arriviamo subito! Wow! Allora è qui che porta tutti quei piatti! Dobbiamo rimetterli a posto. Ma prima cerchiamo il modo di fermare quel robot. Ho avuto un'idea! Il robot vuole pulire le cose sporche. Quindi, se ti sporcassi, verrebbe a lavarti. Che ne dici, Rocky? Farei di tutto per un salvataggio. Spero solo che funzioni. Polizia! Polizia! Funziona! Cacciavite! Ben fatto, Rocky! Adesso rimettiamo quei piatti al loro posto. Grazie, cuccioli! Mi avete riportato il piatto? È proprio il momento giusto! Appena in tempo per il pranzo! Ma troll, siamo pronti all'azione, signore! In stile polizia! Come sapete, i gattini reali erano diretti ad Adventure Bay. Erano? Che vuoi dire, Ryan? Sono spariti! Ci servirà l'aiuto di tutti per risolvere questo caso. Chase, tu sei il cucciolo poliziotto, quindi dirigerai l'operazione. Ricevuto! Questo è un caso di polizia. Ci pensa Chase! Ed ora lasciatemi dare un forte e caloroso benvenuto ai nostri due nuovi membri della squadra gattastrofe. Perché non andiamo più veloci? Oh, coraggio, gattini! Non è l'ora del sonnellino questa! Anche voi, principini! Ora spalate! Fermi quel treno, sindaco Odinger! E va bene, lo farò da solo! Il sindaco Odinger non si fermerà! Mi è venuta un'idea! Rocky! Sky! Dovete arrivare in fondo alla collina il più velocemente possibile! Sky! Calerai la striscia di chiodi dall'elicottero! Rocky! Tu la posizionerai in mezzo alla strada! Mettiamoci all'opera! Sta arrivando il freno! Dove sono i nostri ospiti? Elizabeth, Henry! Benvenuti nella nostra umile città! E grazie ancora, Paw Patrol! Non c'è di che! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! First question. Which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall, or Skye? Hmm... It's Chase! Chase is a police officer! Paw Patrol! Per aggiustare il ponte! Al lavoro! Paw Patrol! Hai fatto presto, Rocky! Mi sembra anche della misura giusta! Purtroppo non hai il numero giusto di denti! Dovrebbe andare! Chase, prova a ritirare il cavo! Misura giusta e stessa dentatura! Avvitatore! Quanto ti manca, Rocky? Mi serve solo qualche minuto! Ora chiama i rinforzi! Skye, serve un salvataggio aereo per Bettina! Questo cucciolo ha imparato a volare! Chase, usa la rete per attutire l'atterraggio! Ma sta atterrando dall'altra parte del ponte! Rocky, tu occupati dell'argano! Chase, ti porto di là con il mio veicolo! Attento, Ryder! Il ponte-elevatoio è ancora aperto! Rete! Nessuno in toppo! Rocky, aiuta il signorale a scendere tirando il cavo senza dargli troppi scossoni! Certo, Ryder! Grazie per averci fatto scendere da quel ponte, Paw Patrol! Nessun problema! In ogni occasione, noi siamo a muuuuuh disposizione! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which pup says, Don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it is said by Rocky! Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Guardate, sono un vichingo! Ha ha ha! Non ci vedo niente! Oh no! Guarda che pasticcio! Meglio mettere in ordine, Mini Patrol! Ehi, dov'è la tartaruga? Oh, eccola là! Tartaruga, ferma! Forza squadra! La tartaruga è molto veloce! Non vogliamo che si perda! Mettiamoci al lavoro, Mini Patrol! Sono sicuro che la tartaruga sia qui da qualche... Eccola! Eh? Ma non è la tartaruga! È una ciotola del museo! Non sapevo camminasse! Oh, è solo un topolino! Significa che la tartaruga è ancora nel museo! Ehm... Da che parte è il museo? Alex! Alex! È ora di chiamare la Pupa Troll! Tu vedi niente, Chase? Ancora no, Ryder! Prova a usare il faro! Forse Alex lo vedrà! Uh! Faro! Alex! Alex! Amici! Qualcuno ci sta cercando! Credo che sia la Pupa Troll! Siamo qua giù! Chase! Illumina da quella parte! Non riescono a vederci! Ma scommetto che vedranno questo! Eccoci! Siamo qui! Quello! È Alex! Li abbiamo trovati! Andiamo! Scusate se sono uscito senza dirlo a nessuno! Ti prometto che d'ora in avanti non uscirò mai più da solo di notte! Fun fact time! Pupa Troll's team vehicle, the Pupa Troller, has eight wheels! That's a lot of wheels! Pupa Troll, siamo pronti all'azione, signore! Tracker è andato a controllare un rumore nella giungla e poi ha scomparso! Questo significa che dobbiamo rintracciare Tracker? Proprio così! Per questa missione mi servirà Chase! Ci pensa Chase, signore! E Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro! Pupa Troll! Ma possiamo cominciare a cercarlo con il drone! Wow! Drone! Impronte di scimmia gigante? Big Gary! Forse lui ha visto Tracker! Sky! Riesci a vedere quella scimmia dal tuo elicottero? Aspetta! Ryder l'ho trovato! Big Gary sta scappando con Tracker! Chase! Usa il tuo drone per avvicinarti! Ai, ai, ai! Imbrecatura! Ai, ai, ai! Grazie, Sky! Che cosa gli prende a Big Gary? Voleva che lo aiutassi con qualcosa! C'è qualcuno nei guai! Da questa parte! Oh? C'è un'altra scimmia gigante incastrata in quel buco nelle rovine! È per questo che Big Gary ti ha portato con lui! Voleva che lo aiutassi a salvare Little Aerie! Non preoccuparti, amico! Riusciremo a tirarti fuori! Ci sono! Rocky, prendi in prestito da Carlos alcune delle sue assi di legno! Riciclare è meglio che buttare! Fatto! Adesso caliamola nel buco! Oh, è troppo pesante! Sì, ce l'abbiamo fatta in lavoro! Se una scimmia è nei guai, noi uca uca ha a disposizione! Sky, Rocky e Zuma sono perduti! Can you help us find them? Here we go with another Pup-tastic rescue! Sentite come fischia il vento! Sono felice di dormire dentro stanotte! Salve, signor Alla! Rider, ho un problema con un porcellino! I duoni hanno spaventato Corny ed è scappato! L'aiuteremo a trovarlo! Corny! 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 Eccolo là, Rider! Vedo Corny nel canyon! Andiamo! Ecco dov'era! Rimarrà nei paraggi se vi serve aiuto! Chase, dobbiamo calarci! Ventose! Va tutto bene, Corny! Sarai in salvo in un batter di coda arricciata! Bene, ora andiamo a casa! Corny ha troppa paura per venire! Sky, cala l'imbracatura! Presa! Tranquillo, Corny! Ti aiuteremo a tornare dal signor All! Tiralo su, Sky! Si parte, maialino! Rider! Quei fulmini sono proprio sopra Adventure Bay! Sky, non voglio che voli vicino al temporale! Gira intorno alle montagne sopra la baia! Allora, Corny! Faremo un giro un po' più lungo, ma ti riporterò a casa! Saremo quasi arrivati, Corny! Se solo vedessi la fattoria! Fantastica! Sulla testa! Quelle sono mucche? Già, ti indicano la via! Oh, ecco finalmente il mio Corny! È bello riaverti qui! Grazie per avermi riportato Corny! Grazie a tutti voi! Nessun problema, signor All! In ogni occasione noi siamo a disposizione! Fun fact time! The Mighty Twins, Tuck and Ella, have some pretty mighty powers! One of them can shrink super small, and the other can grow super big! Il sole sta per tramontare se esce il ragno gigante delle caverne! Che cosa facciamo? La Paw Patrol! Siamo salvi! Allora, Capitan Turbot, visto che sotto penseremo prima a lei! Braccio meccanico! Fai in fretta prima che esca il ragno gigante delle caverne con la sua spaventosa faccia da ragno peloso! A fare il mio overboard, Capitano! Salvataggio superbo, Rubble! Bene, cuccioli! Ora liberate Frasua! Adesso le stacco la gamba dalla ragnatela! A Rocky serve aiuto! Rocky, vola dall'altra parte della ragnatela e tirala con la pinza! Subito! Ora so cosa provano gli uccellini! Adesso la portiamo al sicuro! Yuhu! Manca un Turbot qui e sta arrivando il ragno gigante delle caverne! È senz'altro una silhouette sensazionale! Oh! Oh! Posso farcela! Oh! Si aggrappi, Capitano! Ci sono! Oh! Guardate! Come potevamo aver paura di quell'adorabile piccolo arachnide! Pa! Can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another rescue in three, two, one... Imposto per la pizza in arrivo! Pizza stesa pronta da condire! Prima mettiamo del sugo! E anche tanto formaggio grattugiato! Pronta per essere infornata? Fate largo alla pizza calda! Mmm! Senti che odorino pizza elizioso! Quanto vorrei mangiarne una fetta! Non possiamo ancora mangiare la pizza! Dobbiamo fare la torre di pizza più alta del mondo! Così entreremo nel libro dei primati! Vede? Una torre di pizza! Sarò io a vincere il trofeo! Giusto, gattini? Sono così emozionata! Il giudice arriverà qui a momenti e rimarrà impressionato dalla nostra torre di pizza! Qualcuno ha forse detto pizza? Stavate parlando della torre di pizza più alta e spettacolare del mondo, se non sbaglio! Pensavo che avremmo stabilito il record e vinto il trofeo! E così sarà! Il record apparterrà ad Adventure Bay! Non ci conti, sindaco Goodway, perché Foggy Bottom ha intenzione di vincere! Attenzione, gente! Fatelo alla torre di pizza di Adventure Bay! Ehi là, gente! Sono bloccato! Ma ora mi sto muovendo! Aiuto! Ryder, ti prego, aiuta il giudice! Non mi piace così! Qualcuno mi aiuti! Sky, usa l'imbracatura e porta il giudice al sicuro! Ricevuto, Ryder! Questo salvataggio batte proprio tutti i record! Ah, ecco fatto! E la vostra è la torre di pizza più alta del mondo! Sììì! Che c'è la tua? Can you match the pups with their badge? Here we go with another Pup-tastic rescue! It's time for Paw Patrol trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which pup says Don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Hold those paws! We've got another rescue coming right up! Benvenuti ad Adventure Bay, Oscar! Beh, ora devo proprio andare Alla prossima! Dobbiamo prenderci cura di uno struzzo assetato Hai sete? Spruzzo d'acqua! Beh, sembrava più rilassato mentre beccava il finestrino cercando di raggiungere Cicaletta Oh, forse voleva solo riprendersi il suo peluche Oh, pensi che gli manchi il suo amico? Andiamo a scoprirlo! Ciao, Oscar! Seguimi! Ci siamo quasi, Rubble! Va tutto bene, Marshall? Sì, sto bene Ma è stato un viaggio così movimentato che penso di aver perso qualche macchia Guardate! I pony stanno dando a Oscar il benvenuto in famiglia! Il nostro piccolo è sano e salvo Grazie, Paw Patrol! Non c'è di che In ogni occasione noi siamo a disposizione! Va bene, Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa! Puah-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa- seniors! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger, Sweetie the Cat, Harold Humdinger, or Lady Bird? Do you know the answer? It's Lady Bird! Lady Bird stole all the shiny things in Adventure Bay. Lady Bird, you are so clever and so gorgeous. I adore me! Almost as much as I adore shiny things! E Rocky, tu dovrai sistemare la staccionata mentre noi raduniamo gli animali. Al lavoro, Pou Patrol! Rocky, ripara la staccionata mentre Chase raduna gli animali. Per fortuna ho quello che mi serve. Megafono! Ben fatto, cuccioli! Adesso cerchiamo il miele e le api. Le api hanno infestato il mio rifugio! Sembra che alle api piaccia il fiore sul cappello del sindaco Humdinger. Raccolgono il nettare. Le api lo usano per fare il miele. Oh, so io chi chiamare! Ciao, Ryder! Come va? Sky, devi far allontanare le api dal rifugio del sindaco Humdinger. Bene! Questo cucciolo ha imparato a volare! Apine! Ho un bel fiore pieno di nettare per voi! Ora riportale dalla signora Ayumi. Ricevuto! Le api stanno rientrando per fare altro miele. Bene! Grazie per aver trovato il miele e gli alveari e le api. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Grazie! Ryder, guarda, mira! Quelle grosse impronte sembrano zampe di elefante! Ma certo! Sono da quella parte! Il rumbo è molto forte qua giù. Ma è un cucciolo di elefante! Quello è Snort! Ma come fa un elefante così piccolo a emettere un verso tanto forte? Credo di sapere cosa abbia. Qualcosa è incastrato nella zampa posteriore. No, rendi allontanati da lì! Torna qui, Snort! Vogliamo solo aiutarti! Ryder! Snort si dirige verso il fiume! La corrente del fiume è molto forte! Tracker, potresti saltare sulla zattera e usare i tuoi cavi per fermarla? Su questo! Ma certo! Imbracatura in arrivo! Presa al volo! Possiamo riportare Snort subito a riva! Ottimo lavoro, Tracker! È tutto a posto, Snort! C'è il sicuro ora! Togliamo questo pneumatico dalla zampa! Piano! Ora! Fun fact time! Marshall's dog breed is a Dalmatian e Chase's dog breed is a German Shepherd! Benvenuti a questa puntata del Rodeo Rocambolesco! Tutti voi conoscete già il mio cavallino Rusty! Saluta il pubblico, Rusty! Ci siamo! La prima gara è la corsa negli stivali giganti! I due concorrenti devono restare in sella al loro cavallo più a lungo possibile! Quello che riuscirà a resistere più a lungo sarà il campione del Rodeo Rocambolesco! Buona fortuna, Sindaco! Fortuna? Non mi serve la fortuna! Non quando con me la colla! Attento, gattino! Quella colla sta colando dappertutto! Cosa? Aspetta! Non ha ancora dato il via! Sindaco, scenda subito! Non posso! Ci sono incollato sopra! Rusty, sta attento! Non posso andarmene! Non ho ancora vinto! Tranquilla, Cowgirl Beryl! Aggiusteremo tutto e salveremo Rusty in un battipaleno! Come facciamo a salvare Rusty e il Sindaco Handinger? Ci basterà qualche zampa in più! Zuma, devi prendere un cavallo! Tuffiamoci dentro! Salva gente! Forza, bello! Ora si torna a casa! E che ne sarà di me? Chase, attiva lo spara-palle! Spara-palle! Se colpisci il motore con la calamita, il cavallo si fermerà! Adesso! Per caso ho vinto! Grazie, amici! Avete salvato lo show e anche il mio cavallo! Oh, un gioco da ragazzi! Ogni volta che sei in un guaio rocambolesco, noi siamo a disposizione! Comincia a essere buio! Meglio accendere il faro! Chissà cos'altro può fare! Questo sì che è estremo! Chissà se le riesco a illuminare con la luce del faro! Sì! Ora metto la luce alla massima potenza e sarà abbastanza chiaro per... Il numero acrobatico più entusiasmante di sempre! Oh, oh! Adesso quella nave non riuscirà a vedere l'isola! Oh, no! La porta è chiusa e ho lasciato le chiavi dentro! Devo chiamare la Po-Patrol! La porta non si vuole aprire! Chase, usa le scarpe a ventosa per arrampicarti ed entrare da quella finestra! Oh, scarpe a ventosa! Potrei fare dei bei numeri con quelle scarpe! Zuma, come procede? È buio pesto qua giù! Non credo che il capitano riesca a vedermi o a sentirmi! Mantieni la distanza, Zuma! D'accordo, Ryder! Intanto continuo a chiamare il capitano! Sono dentro, Ryder! Ora vengo ad aprire! La lampadina è fulminata! Ne occorre una nuova! Lampadina nuova in arrivo! Dobbiamo fare in fretta! Oppure il mercantile si schianterà! La lampadina è fulminata! Yuhuuu! Oh, sì! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! What is the name of Mayor Goodway's chicken? George? Wendy? Chickapoo? Or Chickaletta? Hmm... It's Chickaletta! Mayor Goodway's chicken is Chickaletta! Hiya, Chickaletta! Follow me! Ryder, finalmente siete qui! Non riusciamo più a trovare le caprette! Le troveremo noi e ripareremo anche quella recinzione! Giusto, Rocky? Certo! Cacciavite! La recinzione è a posto adesso! Andiamo! Pronto, sindaco Goodway? Che succede? Delle caprette mi hanno appena mangiato l'asciugamano da spiaggia! Arriviamo subito! Cuccioli! Le caprette sono in spiaggia! Dobbiamo radunarle tutte! Subito! Qui, piccole caprette! Le ho radunate sulla zattera! Ottimo! Ehm... Ma chi guida la zattera? Ah? L'altamarea l'ha portata via! Purtroppo non era il momento giusto! Il sindaco Goodway dice che le caprette sono qui! Ma dove? Hanno appena preso... ...il largo! Zuma! Ci serve un salvataggio marino! Tuffiamoci dentro! Arrivano i soccorsi, caprette! Oh no! Raider, la zattera si è rotta e le caprette vanno alla deriva! Che cosa faccio? Dobbiamo trovare il modo di rimettere insieme quei tronchi! Oh! Facendole correre! Come a lezioni di yoga! Correte, caprette! Correte! Fantastica corsa, caprette! Continuate così! Io le spingo verso riva! Ah, le mie piccoline grazie, Paw Patrol! Nessun problema! Quando una capretta da yoga scappa, siamo a disposizione! È ora di riportare queste caprette stanchi a casa! Oh, Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! In qualche modo la mongolfiera di Travis si è impigliata nella Flander e una folata di vento li ha portati nel deserto! E noi dobbiamo riportare la barca di Capitano Turbot in acqua? Sì, e anche far volare di nuovo la mongolfiera di Travis il viaggiatore! Per questa missione mi servirà... Rocky! Userai i tuoi attrezzi per costruire un carrello robusto per sostenere la Flander! Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Rocky, tu cominci a costruire il carrello! Subito! Ora dobbiamo trasformare la mongolfiera sgonfia in una vela! Rubble, Zuma, coraggio! Un carrello per barche pronto all'uso! E la Flander ha una vela nuova di zecca! Ottimo lavoro, cuccioli! Ma come farà la mia barca a salire su quel carrello? Rubble, accendi il motore e inizia a tirare! Evviva! E ora la Flander del deserto è pronta per il suo viaggio inaugurale! Travis, Capitan Turbot, reggetevi! Stiamo per salpare! Prossima tappa, Adventure Bay! Finalmente è tornato in acqua, Capitan Turbot! Grazie! Oh, quel percorso pericoloso ha portato dei problemi alla mia povera pagina! E io come faccio a riportare la mia magnifica mongolfiera di nuovo in aria? Non sarà un problema per le ventole di Zuma! Un altro po' d'aria e riusciremo a... decollare! Grazie per il salvataggio nel deserto, Paw Patrol! Non c'è di che! Ogni volta che un viaggio prende una brutta piega, noi siamo a disposizione! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! First question. Which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall, or Skye? Hmm... It's Chase! Chase is a police officer! Paw Patrol! Hmm... Quel tipo non ha nemmeno un briciolo del mio talento! Vero, gattini? Anch'io potrei suonare della bella musica se avessi una chitarra come quella! Hmm... Ma certo! Oh! La mia chitarra è sparita! Dobbiamo assolutamente trovarla! Sarà meglio chiamare la Paw Patrol! Ehi! Ma che fate? Non volete ascoltare la mia meravigliosa musica? Tornate qui con quella chitarra! Eccolo là! Presa! La mia chitarra! È troppo ripido per i veicoli! Dovremmo andare a piedi! Ora chiamo i rinforzi! Skye! Abbiamo bisogno di un aiuto aereo! Ricevuto, Ryder! Questo cucciolo ha imparato a volare! Sento l'odore della chitarra! Si trova dentro al tronco! Lo prendo con il rampino! Rampi! Rampi la chitarra! Gustavo! Aiuto! A qualcuno serve un passaggio? Imbracatura! Tutto bene, Gustavo? Grazie a Skye sto bene! Ma la mia chitarra è ancora incastrata in quel tronco! Non per molto! Rampino! Sei salva! Grazie, Paw Patrol! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which pup says, Don't lose it, reuse it? Rocky? Rubble? Sky? Or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it is said by Rocky! Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Questa missione è un po' strana. Delle scimmie hanno costruito una struttura per giocare e hanno intrappolato Carlos in una gabbia. Sul salvo? Come hanno fatto delle scimmie a costruirla? Tracker ha detto che hanno usato degli attrezzi colorati che hanno trovato in giro. Per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signore! E Chase? Ci pensa Chase, signore! Bene! Al lavoro, Poupa Troll! Torna qui! Alle scimmie non servono le pinze! E anche tu! Ridammelo! Poupa Troll! Meno male che siete arrivati! Per noi è un piacere, Carlos. Ti tireremo fuori in un baleno. Rocky, smonta questa struttura! Subito! Cacciavite! Grazie, Rocky! Rider? Non c'è di che, Carlos? Rider, Carlos! Avete visto Mandy? No, perché? Ecco perché! Quella ruota viene dal nostro Poupa Troller! Recuperiamo gli attrezzi prima che le scimmiette facciano altri danni. Megafono! Valle fresche! Venite a prenderli! Sì! Ottimo lavoro! Siete proprio dei bravi cuccioli! Grazie, Rider! Poupa Troll! Avete salvato la giungla da quelle scimmiette dispettose! Ogni volta che una scimmia combina qualche guaio noi siamo a disposizione! Fun fact time! Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has eight wheels! That's a lot of wheels! Benvenuto a Berkingburg, signor stars! È un onore essere qui, qui! Mi farebbe molto piacere offrirti un tè questo pomeriggio prima del concerto. Forte! Chissà perché Luke ci mette così tanto. Principessa, ho guardato il camerino e ho cercato in tutto il castello, ma non riesco a trovarlo! Luke star si è scomparso! Meglio chiamare la Paw Patrol! Paw Patrol! Sono così felice di vedervi! Principessa, siamo arrivati il prima possibile! Rocky, tu ed io cercheremo all'interno del castello. Skye, tu pensa all'esterno. Muoviamoci! Ricevuto, Rider! Muovo! Temo che non verrà mai ritrovato. E le luci della ribalta saranno tutte mie! Non è dietro questo muro! Cerca ancora! Skye, qualche traccia di Luke? Vedo qualcosa! Sembra il suo cappello! È incastrato in una finestra della torre est! Bel lavoro, Skye! Il muro interno verso la torre est dovrebbe essere proprio... qui! Rocky, controlla dietro questo muro! Wow! C'è un ascensore segreto! È Luke! È in una stanza quassù! Ottimo lavoro, Rocky! Rubble, Skye, vediamoci fuori dal castello! Sto arrivando, Rider! Uh-uh! Pinze da costruzione! Il mio cappello! Grazie, mi avete salvato! Ehi, amici! Vi avrei chiamato, ma Sweetie mi ha preso il telefono e mi ha chiuso qui! Ma per fortuna stai bene! Adesso ti portiamo al concerto! Signore e signori Luke Stars! Buonasera, Birkinburg! Scusate il ritardo, principessa! Luke! Uuuuh! Skye, Rocky, and Zuma are lost! Can you help us find them? Here we go with another Pup-tastic rescue! Oh, Patron! Siamo pronti all'azione, signore! Carlos e Tracker dicono che uno strano odore sta spingendo gli animali lontano dalle loro tane! Oh! E fuggendo così in fretta, una scimmietta è rimasta ferita! Marshall, userai l'attrezzatura di pronto soccorso per curare la scimmietta! E... Skye! Con l'elicottero sorvolerai la zona per capire che cosa causa questo cattivo odore! Bene, al lavoro! Pup-atron! Abbiamo trovato Carlos e Tracker! Ryder! Marshall! Meno male che siete arrivati! Marshall, dà un'occhiata alla sua zampa! Raggi X! La sua zampa non è rotta, scimmietta! Le basterà una fasciatura! Oh! Skye, sai dirci da dove proviene questo cattivo odore? Sono sopra la palude! A quanto pare ci sono delle enormi bolle verdi che escono dall'acqua! Delle bolle davvero maleodoranti! Bel lavoro, Skye! Marshall, tu resta qui, noi controlliamo la palude! Quelle bolle sono... piene di gas! A volte nelle acque delle paludi le vecchie piante marciscono e si trasformano in gas puzzolenti che risalgono sotto forma di bolle! Skye, usa le pale del tuo elicottero per allontanare da qui le bolle di gas! Ottima idea, Ryder! Non ci sono più bolle qui! Bisogna dire che l'aria è già migliorata! Jace, Marshall, è tutto a posto! Riportate gli animali verso la palude! Ci pensiamo noi, Ryder! che non vedono l'ora di mettersi in posa! Fun fact time! The mighty twins, Tuck and Ella have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small and the other can grow super big. state tutte bene? Cos'è questo rumore? Lo stagno! Si sta prosciugando! Meglio chiamare la Poupatrol! Cos'è questo rumore? Guardate! L'acqua deve essere scesa da questo scarico! Ci serve qualcosa di piccolo per dare un'occhiata più da vicino! Chase, serve il tuo drone da spia! Drone! Bene! Adesso vediamo dove va! Ehi! Questo tubo finisce in un tunnel! Fino a che distanza può arrivare il drone? Fino a lì! Il drone deve aver colpito qualcosa che blocca il tunnel! Credi che potrebbe aver fermato anche l'acqua? Forse! Ma dovremmo andare a vedere di persona! Zuma! Facciamo un giretto nel tunnel! Forte! Se togliamo qualcuna di queste assi l'acqua ricomincerà a scorrere! E lo stagno delle paperelle si riempirà di nuovo! Buona idea, Ryder! Piano, Zuma! L'acqua non deve arrivare tutta quanta insieme! Perfetto! Ora andiamo via prima che il tunnel si allaghi! Non preoccupatevi, piccoline! Ryder vi riempirà lo stagno! can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another rescue in 3, 2, 1... mondo in mongolfiera nel cielo blu! Esploro nuove terre e giro il mondo sempre più! Mi piace così! È bello perché di meglio non c'è! Io sono un viaggiatore! venite a viaggiatore! Venite a viaggiatore insieme a me! Un gabbiano! Dunque, ti chiamerò... gabbialetta! Gabbialetta! Gabbialetta, eccolo! Il polo nord! Ma... senza neve! Ciao, Tracker! Come va? Guarda! Ma che bel paesaggio infernale! È Cicaletta! È Travis! Sì! E crede di essere al polo nord? Arriviamo subito! Robo cucciolo va nella giungla! Hola, Ryder! È lassù! Resista, Travis! Vi tireremo giù! Ryder! Che cosa ci fate voi qui nel freddo e glaciale polo nord? Chase, lancia la rete in modo che Travis e Cicaletta ci saltino sopra! Ora vi facciamo scendere, Travis! Dobbiamo farlo in fretta, guarda! Questa avventura diventa ogni minuto più avvincente! Incredibile! Chase, lancia la rete, ora! Wow! Rete! Wow! Ehi! Dov'è il ragno che ha tessuto questa ragnatela? Deve essere gigante! E così do il mio affettuoso addio al polo nord! Purtroppo devo dire addio anche alla mia fedele compagna Gabbialetta! Ma ne ho trovata una nuova! Dove andiamo Criceletta? It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which pup says don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky! Don't lose it, reuse it said by Rocky! Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto presto! Il sindaco Goodway e il sindaco Hamdinger sono finiti con la loro slitta in una grossa crepa nel ghiaccio! Occi, Chase, allontaniamo quei lupi! Uh, sparapalle! Bene, Rubble vola nel crepaccio e porta su i sindaci uno alla volta! Due sindaci in arrivo! Ora vi portiamo fuori di qui! Prima io! Everest, segui i sindaci! Ryder, si sono appena fermati ma sono troppo pesanti per il ghiaccio! Ci dobbiamo allontanare da questo... Ti salvo io, Cicaletta! Niente paura, sindaci! La Paw Patrol vi riporterà a riva! Il vento ci sta portando in mare aperto! Zuma, i sindaci sono su quel blocco di ghiaccio dobbiamo riportarli a riva! Lascia che me ne occupi io, amico! Zuma! Cosa vuoi fare? Ti porto a fare un giretto! Everest, riesci ad afferrarlo? Sì! Arfione! Presto! I miei piedi sono tutti bagnati! Oh, grazie Paw Patrol! Ci avete salvati! Non c'è di che, sindaco, ogni volta che rimanete bloccati nell'artico noi siamo a disposizione! Fun fact time! Paw Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has eight wheels! That's a lot of wheels! Salve, signorale, signora Yumi! Allora, Ace, credi di riuscire a fare un salto in piazza oggi alle tre? Mi piacerebbe molto, ma non posso! Cosa? Ma tu devi venire! Eh, volevo dire, come mai? Io non ho la macchina e non posso venire in aereo. Non ci sono piste vicino alla piazza. Ace, non ti preoccupare, ti porteremo noi alla tua festa... alla festosa piazza di Adventure Bay! D'accordo! Grazie! Ci vediamo alle tre! A più tardi, avviatore! Wow! Questa sarà una festa spettacolare! Oh no! Abbiamo dimenticato il regalo! Pensiamo a qualcosa prima che Ale e Yu mi accompagnino in auto e Ace alla festa! In auto? Mi è appena venuta una grande idea! Perché dobbiamo prendere il regalo per Ace sull'isola dei rifiuti? Perché l'ultima volta che sono stato qui ho visto una cosa che sarebbe perfetta proprio laggiù! La posso riparare e metterla in moto in tempo per la festa? Soprattutto se mi darete una zampa! Gran bel colore, Marshall! Ben fatto, cuccioli! Ho un'idea che la renderà perfetta per Ace! Però mi servirà il tuo aiuto, Randy! Va bene! È quasi ora! Chissà perché Sky ci tiene così tanto? Qualunque cosa sia sarà sicuramente una festa meravigliosa! o una giornata meravigliosa? Sorpresa! Un coperario! Wow! Questa è per me! Già! L'hanno aggiustata i cuccioli! Coraggio! Andiamo a fare un giro con questo valide! Questo è il regalo più bello del mondo! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon!